Sono Orlando Annalisa, la ditta L'Eurostream SRL come marchio di produzione Scrimit, qui all'ISC 2013 presentiamo due principali prodotti, questo chiamato Resor, che è uno schermo elettrico, sia in versione tensionata che in una, che dà la possibilità di avere un'installazione pulita con la chiusura di uno sportello, quindi l'ischermo va completamente chiuso all'interno del conto subito e non si ha un'apertura nella parte inferiore. L'altro prodotto che presentiamo è questo, Sih100, che è un elevatore motorizzato per proiettori con corso a un metro, per proiettori di peso fino ai 25 kg.